Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Abbiamo un po' di sole fuori che ti riscalda, però io vi offro il vero riscaldamento, la parola di Dio. Siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 20 a 26. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nello Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice, pazzo, sarà destinato al fuoco della Genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconsigliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore Abbiamo già commentato questo brano. Stamattina vorrei sottofermarmi alla prima strofa, al primo paragrafo. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli, dice Gesù ai suoi discepoli. Che cosa intendiamo con la giustizia di Dio? Perché Gesù parlando della giustizia non parla della giustizia giudiziaria, ma della giustizia di Dio, che consiste nella conformità alla sua volontà essere fedele, essere in comunione con lui. Ecco, questa è la giustizia di Dio. Non è la giustizia giudiziaria dove il giusto è liberato e il malvagio, il colpevole, è condannato. Perché allora Gesù dice, ecco, gli apostoli non devono, diciamo, comportarsi come questi scrivi, cioè la loro giustizia. Qual è? Allora, qual è la giustizia degli scrivi e farisei? Lo sappiamo che, ecco, la giustizia è una conformità alla parola di Dio, dunque gli scrivi e i farisei, anche loro sono conformi alla Torah, la legge. Loro applicano la legge come è scritta. Non hanno bisogno di interpretarla, non hanno bisogno di leggere tra le righe, ma solo applicare come è scritta. E perciò, la legge dei taglioli, per esempio, dente per dente, occhio per occhio, si applicava così. E ci sono altre leggi che si applicavano così. Ma lo sappiamo che Gesù è venuto per dare una buona interpretazione alla legge. Non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare compimento, cioè dare una giusta interpretazione. E perciò, Gesù propone alcuni esempi, no? Ecco, avete inteso agli antichi, ma io vi dico, Gesù propone un altro modo di leggere ciò che è scritto, perché mette davanti l'amore. E perciò, invece di applicare la legge, di praticare la giustizia dei farisei, che metteva fuori proprio l'amore, metteva fuori il perdono, metteva fuori, diciamo, il dialogo, la concordia, perché ci deve condannare, hai torto, deve essere condannato, ti sopropone a questi discepoli di camminare nella giustizia di Dio, cioè mettere l'amore davanti. Ecco, la giustizia che supera quella dei farisei, mettere l'amore davanti. Dunque, ogni cosa deve essere letta secondo la legge dell'amore. Questa è la giustizia di Dio. Dunque, conformarsi alla parola di Dio, che l'amore, al dialogo, alla concordia, alla riconsigliazione, ecco la giustizia di Dio. E perciò abbiamo alcuni esempi. Se tu ti ricordi che, ecco, cioè andando all'altare, hai qualcosa con il tuo fratello, oppure il tuo fratello ha qualcosa contro di te, cercate di riconsigliarvi. Oppure, mentre tu vai con l'avversario verso il giudice, intanto mettetevi d'accordo, prima di arrivare davanti al giudice, mettetevi d'accordo. Ecco, questa è la nuova giustizia che Gesù propone ai suoi discepoli. Ciò che i farisei non facevano. Hai torto, sei condannato, l'amore non esiste proprio. Già dicevano che, ecco, si ama il prossimo, si odiava il nemico. Dunque, Gesù propone un altro modo di vivere. Dunque, ecco la giustizia di Dio. Per esempio, San Giuseppe era uomo giusto davanti a Dio, no? Matteo 1, 18-19, perché era conforme alla volontà di Dio. Abramo, uomo giusto davanti a Dio, ha sempre fatto la volontà di Dio. Siamo nella Genesi, capitolo 15. Mosè, nell'Esodo, capitolo 20, ha sempre fatto la volontà del Signore, anche tutto l'Esodo. Ecco, la giusta di Dio. Allora, carissimi miei, noi siamo giusti davanti a Dio? Non si tratta della santità. Non è la santità, ma piuttosto la conformità. La nostra vita è conforme alla volontà di Dio. Perché non possiamo essere d'accordo con San Paolo, apostolo, nella letta ai Filippesi, capitolo 2, versetto 5. Abbiate in voi i sentimenti di Cristo. Perché non possiamo chiedere allo Spirito Santo di darti i sentimenti di Cristo, lui uomo giusto, per farci anche giusti, che Dio veramente ti aiuti per camminare sulla giustizia di Dio, che è proprio l'amore. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.